Il circolo resistenza di rifondazione comunista di Licata e collaborazione con il movimento Licata al Popolo chiede chiarezza al nuovo sindaco Angelo Balsamo che in campagna elettorale aveva più volte pubblicamente sottolineato che uno degli obiettivi principali del proprio programma politico fosse il ritorno alla gestione pubblica della raccolta dei rifiuti solidi urbani facendosi promotore addirittura della raccolta differenziata porta a porta essendo questo un punto storicamente molto caro al nostro partito politico si legge in una nota di rifondazione comunista essendo uno dei punti fondamentali del programma politico che la nostra lista civica ha espresso durante le ultime amministrative vigileremo che il sindaco Balsamo mantenga la promessa fatta agli elettori e spingeremo perché ciò avvenga ritenendo che l'unica scelta possibile per risolvere questo gravoso problema sia l'eliminazione di qualsiasi gestione privata che in questi anni ha solo peggiorato la situazione aumentando sempre di più la tassazione e diminuendo sempre di più la qualità del servizio a favore di una gestione pubblica tuttavia il nostro attuale intervento si legge ancora nella nota di rifondazione non è dovuto a un'eccessiva fretta visti i tempi distretti che il sindaco ha avuto per tenere fede alla propria promessa elettorale ma è piuttosto una risposta alle dichiarazioni che il sindaco Balsamo sta facendo negli ultimi giorni e nei giorni appena successivi alle elezioni infatti più volte il sindaco Balsamo ha ripetuto che sta rivedendo gli accordi con la dedo all'ambiente parlando di avere avviato un dialogo con il commissario liquidatore della dedo all'ambiente Rosario Miceri per il discerbamento dei marciapiedi e delle strade proponendo un'assemblea dei soggi per poter valutare meglio i costi di gestione e manutenzione dei mezzi usati per lo smaltimento dei rifiuti avanzando suggerimenti per trovare anche le risorse per il carburante direttamente all'ingrosso e non più nei distributori e sulla gestione dei dipendenti comandati alla dedalo che sono rientrati al comune delicata valutando inoltre se sia opportuna la scelta dell'adesione alla società per la regolamentazione dei rifiuti la SRR di Gela fatta dall'ultima amministrazione uscente chiediamo al nuovo sindaco di prendere una posizione chiara e netta conclude la nota di rifondazione e tenere fede a quanto espresso durante la campagna elettorale chiarendo se sarà coerente con quanto promesso anche i tempi in cui si propone di fare tutto questo